. Da Quebec City, risultati e programma . Luci Safarova, prima donna in Quebec per classifica, polverizza Anna Tatisvili ed approda al secondo turno in 46 minuti. 60-61 il punteggio finale. . Poche le sorprese di giornata. La teutonica Maria, quarta testa di serie, supera la qualificata ungherese Stullar, 62-76-4, mentre la Van Wittbank soffre con la Vidkar Dzau. Perde il primo 64, poi risale e chiude al prolungamento del terzo, 62-76-1. . Da rimarcare luscita di scena di Jennifer Brady, di recente protagonista sui campi di Flushing Me a Doves. Lamericana inciampa nel giovanile in cedere di Bianca Andreescu, classe 2000. La canadese domina la scena, 63-62. . 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